Noi l'abbiamo conosciuto via streaming quando eravamo ragazzini, come tantissimi di voi immagino che ovviamente hanno visto i suoi film, insomma, nei vari modi, perché magari la distribuzione italiana non ci permetteva di arrivare ai suoi film. Questi incontri qua che so, credo, è il motivo per il quale tutti noi amiamo il Cino America e tutti i ragazzi del Cino America, è perché ci permettono di fare questi miracoli che tempo fa sembrano assolutamente impensabili.